Seconda corsa, un miglio per cavalli di quattro anni, sono undici dietro l'autostart, uno Di Natà, due Dalida Ban, tre De La Cruy, quattro Duchessa La Torre, cinque Dottor Adri, sei Dragonero Fi, seconda linea sette Darylin Lady, otto Delmonica Matto, nove Daphne Di Poggio, dieci Diluvio E.K., undici Dora Leo. Chiusura Daphne Di Poggio e Di Natà, i più appoggiati, rispettivamente nove e uno dello schieramento. Macchina che accelera in partenza la velocità di Duchessa La Torre che cerca di conquistare il comando, si oppone però a De La Cruy e all'interno anche Di Natà, da valere la sua presenza, alla corda per rientrare agli avversari e mantenere il vantaggio del numero. Di Natà dunque leader nei confronti... Numero 10, Diluvio E.K., squalificato... Di De La Cruy, poi Duchessa La Torre, mentre all'esterno non tarda a progredire Daphne Di Poggio, dopo i primi 300 metri di gara. Quarto che se ne va in 29 secco, andatura sostenuta quella imposta da Di Natà, Daphne Di Poggio arriva al sediolo, a contatto De La Cruy, poi Duchessa La Torre, via via gli altri. Intanto i 600 completati in un veloce 43,9, a contatto si mantiene De La Cruy, mentre gli altri hanno perso leggermente la scia dei primi, con Duchessa La Torre che si mantiene comunque in quarta posizione avanti a Dottor Adri, poi Dragonero Fii, gli altri più discosti. Intanto 800 metri completati in 58,3 con Di Natà che continua a macinare andatura e completa un chilometro nell'ordine del 1,13,4. Sempre generosamente all'esterno è Daphne Di Poggio, a contatto prova a resistere anche De La Cruy, nuovo attacco di Daphne Di Poggio quando siamo a 400 dalla conclusione, tende ad avvantaggiarsi su Di Natà, poi De La Cruy che accenna a spostare all'esterno, Di Natà è stato superato, Daphne Di Poggio in vantaggio, prova ad avanzare De La Cruy, contatto ancora Duchessa La Torre, poi gli altri più discosti, completamento della curva conclusiva, ingresso in addirittura d'arrivo con Daphne Di Poggio in netta evidenza, finale con Daphne Di Poggio che si allunga bene e viene a concludere la sua fatica, strameritata vittoria per Daphne Di Poggio, il secondo posto sul palo è ancora per De La Cruy che contiene Duchessa La Torre. 1.14.7 il raguaglio conclusivo, ancora 38 a chiudere, prestazione davvero superba per Daphne Di Poggio dopo il rientro sfortunato, viziato da errore, allieva di Massimo Barbini guidata da Carmine Piscuoglio, si fa un intero percorso scoperto per aver ragione di Natà, ti ha provato a metterla sul ritmo, Daphne Di Poggio non gli ha lasciato scampo e alla fine ha vinto nettamente, successo dunque per Daphne Di Poggio, Carmine Piscuoglio in sediolo, training di Massimo Barbini per la scuderia Mistero. Grazie a tutti.